A Roma oggi è iniziato ufficialmente il nuovo anno scolastico. Al liceo artistico Enzo Rossi di Collianiene, gli studenti di secondo, terzo, quarto e quinto anno sono stati i primi a tornare sui banchi. La decisione di anticipare il rientro di una settimana rispetto al calendario scolastico che prevedeva l'inizio delle lezioni, il 16 settembre, era stata presa dal Consiglio d'Istituto. I giorni anticipati verranno recuperati durante l'anno, in particolare dopo Pasqua, creando un lungo ponte fino al primo maggio. Nelle prossime ore altri istituti della capitale riapriranno le porte agli studenti. Domani mattina infatti riapriranno le tre sedi del liceo scientifico musicale Farnesina, gli istituti comprensivi via Volsinio, Mazzini ed Esopo al Nemorense, Santa Maria Goretti al quartiere africano, il Marcello Mastroianni di via Orvieto in zona Re di Roma, il Barbara Rizzo di Formello, il via Ormea a Casalotti e l'alfieri Lante della Rovere di via Salaria.